Ringrazio il Presidente Abete per questo invito. È la seconda volta che torno a confrontarmi con voi, sia pure a distanza, per via delle attuali restrizioni anti-Covid, mentre ci troviamo in un contesto economico-sociale che è completamente mutato rispetto allo scorso anno, a causa di questa crisi pandemica. Nell'edizione dello scorso anno discutevamo, lo ricordo bene, di come riaccende il motore dello sviluppo del nostro Paese, dopo anni di produttività stagnante, di ampie diseguaglianze regionali nei tassi di occupazione, distarsi degli investimenti dovute a un ambiente regolamentare non abbastanza favorevole. Nel 2020, dopo le due ondate della pandemia, la sfida che abbiamo di fronte non è più soltanto quella pur prioritaria di liberare le potenzialità inespresse del nostro Paese. In questa nuova fase il compito che ci attende è duplice, riguarda non soltanto l'Italia ma l'intero Europa, più in generale anche l'intera comunità internazionale. In primo luogo nel presente dobbiamo serrare i ranghi per vincere il nemico invisibile che è ancora fra noi. Ed è una battaglia che richiede un forte spirito di unità nelle nostre comunità, una leale collaborazione fra tutti i livelli istituzionali degli Stati, una solida cooperazione internazionale per aiutarci l'un l'altro ad abbattere la circolazione del virus e a pianificare un'efficace distribuzione dei vaccini l'anno prossimo, 2021. Oltre ad affrontare la sfida sanitaria, ci troviamo oggi a porre le premesse anche per una piena ripresa economica, dotando il motore della crescita di rinnovate energie. Senza dubbio il multilateralismo, la reciproca collaborazione fra Paesi sono precondizioni essenziali per avere successo, perché il virus non conosce confini ma attraversa barriere. È quindi essenziale continuare a promuovere gli scambi di conoscenza, di innovazioni mediche, di soluzioni organizzative e tecniche che sono resi possibili solo attraverso il libero commercio. Le sfide globali della pandemia, dei cambiamenti climatici, della ripresa equa e inclusiva sostenibile sono anche gli assi portanti della Presidenza italiana del G20, che è appena iniziata, così come il rilancio del sistema commerciale multilaterale con l'Organizzazione Mondiale del Commercio come suo fulcro. Riteniamo infatti essenziale che il G20 continui a promuovere un dibattito costruttivo sulla riforma dell'organizzazione ginevrina, con l'obiettivo di rendere la più efficace, capace di affrontare nuove sfide nel nostro tempo, in base ai principi di trasparenza, non discriminazione e inclusività. La scintilla della crescita futura sarà in gran parte innescata dalla necessità di rispondere ad alcuni bisogni umani fondamentali, la salute, la mitigazione dei cambiamenti climatici, la protezione dell'ambiente, il bisogno di politiche economiche e sociali che sappiano accompagnare la rivoluzione tecnologica prodotta dalla digitalizzazione, mitigando gli impatti negativi transitori sull'occupazione e garantire così la concorrenza dei nuovi mercati digitali, assicurare che le nuove tecnologie siano effettivamente al servizio del cittadino e non ne sfruttino l'ingenuità, la poca consapevolezza dei rischi. Per troppi anni, molti di questi bisogni sono stati considerati per lo più un peso da sostenere rispetto alle politiche di sviluppo. Ecco, oggi invece la ricerca e l'industria si riorienteranno a dare risposte a questi bisogni e le innovazioni che ne eseguiranno, volte a scoprire nuove soluzioni per i beni pubblici fondamentali, potranno costituire il vero volano della crescita negli anni a venire. Certamente una sfida di queste proporzioni deve essere affrontata con strumenti adeguati e in questo senso il governo italiano è stato tra i più convinti promotori della grande svolta europea che è stata compiuta nel 2020, ovvero il lancio del progetto Next Generation EU, grazie al quale per la prima volta l'Unione Europea progetta un piano di investimenti comunitario finanziato dalle emissioni di titoli di debito autenticamente europei collegato a fondamentali riforme di sistema e il nostro Paese deve farsi trovare pronto sfruttare al massimo questa opportunità senza precedenti e per farlo la strategia di governo si orienterà su tre assi fondamentali la fiducia, le riforme e gli investimenti per costruire la fiducia imprescindibile e mitigare gli effetti dell'incertezza che persisterà anche dopo la fine dell'emergenza pandemica e per questo motivo pur preservando la sostenibilità del debito l'intonazione del bilancio delineata alla manovra economica per il 2021 resta fortemente espansiva come consigliano anche le principali istituzioni internazionali tra cui l'Ox e il Fondo Monetario Internazionale una riduzione più rapida del deficit di bilancio in questa fase rischierebbe di compromettere la ripresa inoltre è fondamentale tornare ad assicurare al nostro Paese una vera mobilità sociale impedire che nascano nuove e più profonde diseguaglianze e rifondare su base di nuove il rapporto tra cittadini e istituzioni con particolare riferimento al fisco alla pubblica amministrazione la riforma fiscale a partire da quella dell'IRPEF dovrà garantire maggiore equità trasparenza ed efficienza contribuendo a ridurre le disparità reali e percepite del trattamento tra i cittadini eliminando al contempo gli spazi per una concorrenza sleale tra le imprese la riforma della pubblica amministrazione guidata dalla sua digitalizzazione avrà come obiettivo di rendere l'amministrazione pubblica efficiente a servizio di cittadini e imprese investendo sul suo capitale materiale e materiale e soprattutto sul suo capitale umano cosa per troppo tempo trascurata e serviranno senz'altro nuove competenze nuove forme di organizzazione ulteriori semplificazioni nei procedimenti burocratici per sfruttare appieno i benefici della digitalizzazione e dotare così la pubblica amministrazione moderna ed efficiente di tutti i suoi supporti infotelematici naturalmente la rivoluzione digitale non riguarderà solo la macchina amministrativa del paese ma anche la sua industria le sue scuole i suoi ospedali non possiamo più permettere che l'Italia sia gli ultimi posti nelle classifiche europee in quanto alla digitalizzazione dell'economia della società e non possiamo permettere che il nostro paese detenga il triste primato europeo relativo all'incidenza dei giovani cosiddetti NIT che non sono inseriti in percorsi di lavoro studio formazione sul totale della popolazione attiva ecco per questa ragione il piano nazionale di ripresa e resilienza sarà potenziato servirà a potenziare tutto il sistema delle istruzioni assicurando la connessione veloce in tutte le scuole digitalizzando i curricoli scolastici la formazione dei docenti aumentando anche il peso delle competenze STEM e delle lingue nei percorsi formativi dando nuovo impulso alla formazione terziaria e professionalizzante rafforzando così tutte le interrelazioni fra ricerca attività produttive con la creazione di centri di eccellenza e vari segmenti di industria che assicurino un efficace trasferimento tecnologico all'interno mondo produttivo e vogliamo farlo in particolare assicurando che questi benefici ricadano su tutto il paese da nord a sud dalle aree urbane a quelle più interne e siamo consapevoli che nessun processo di crescita potrà innescarsi se non procediamo a una decisa azione riformatrice della macchia dello Stato e dell'ordinamento giuridico e per questo motivo che oltre alla modernizzazione della pubblica amministrazione di cui ho già parlato intendiamo anche accelerare sul fronte la riforma della giustizia civile per velocizzare i tempi dei procedimenti assicurare più certezza agli operatori economici con il nostro piano di ripresa e resilienza dovremo poi dare impulso a decidere di opere infrastrutturali fondamentali per il paese come le tratte di rete ferroviarie ad alta velocità ad alta capacità che sono contenute nel progetto Italia Veloce ricorrendo anche alla possibilità di poteri aggiuntivi per i soggetti attuatori come permesso dalle norme transitorie del decreto poi convertito semplificazioni infine saranno gli investimenti pubblici a costituire la pietra angolare del nostro piano in coerenza con l'indirizzo forte e innovativo della Commissione Europea intendiamo destinare il 40% delle interne risorse disponibili per il nostro paese a una vera e propria rivoluzione verde vogliamo aumentare sensibilmente la quota di energia prodotta dalle fonti rinnovabili il solare l'eolico il biometano affinché l'Italia possa conseguire con successo l'obiettivo europeo di riduzione delle emissioni inquinanti pari al 55% entro il 2030 che abbiamo appena ribadito nell'ultimo Consiglio Europeo e tale impostazione è quella che il nostro paese vuole condividere a un più ampio livello internazionale anche nella prospettiva della COP26 di cui noi saremo partner insieme alla Gran Bretagna intendiamo anche potenziare prorogare interventi già sperimentati ma adottati di grandi potenzialità parlo del super bonus edilizio al 110% del pacchetto incentivi di transizione 4.0 che riteniamo prioritario al contempo anche per superare quegli investimenti che mancano da troppi anni nel nostro paese per rafforzare le nostre imprese ma penso anche ad esempio alla sostituzione parco rotabile degli enti locali al rafforzamento della rete idrica alla resilienza dei suoli forestali che è cruciale per contrastare il distesso idrogeologico si tratta senz'altro di un piano molto ambizioso articolato che oltre ad un'attenta pianificazione richiede anche un'attuazione più efficace possibile lo sapete il governo è al lavoro per definire compiutamente la struttura che sarà responsabile dell'attuazione del monitoraggio del piano e che potrà valersi anche di un quadro normativo ad hoc per assicurare il pieno assorbimento delle risorse stanziate e la resta a terra di tutta la progettualità nei tempi più rapidi questa struttura in nessun caso sarà sovraordinata sovrapposta ai doverosi passaggi istituzionali molti dei progetti contenuti nel piano seppure sostenuti in prima istanza da risorse pubbliche avranno pienamente successo scusate soltanto innescando preziose sinergie tra pubblico e privato che passano in maniera decisiva anche per il contributo del mondo bancario e finanziario si tratta questo di un settore che come avviene purtroppo in ogni periodo di crisi ha subito fortemente l'impatto della pandemia il calo dei consumi porta infatti a una netta contrazione dei profitti delle imprese si ripercuote sulla reddittività anche delle banche e per mitigare questi effetti avversi il governo ha esteso un'ampia rete di protezione in favore del settore tramite garanzie pubbliche per tutto il 2020 e grazie anche alle leggi bilancio del 2021 le misure a sostegno della liquidità come sapete saranno prorogate anche per il prossimo anno è molto positiva in questo senso la decisione dell'autorità bancaria europea che ha rinviato al 31 marzo la scadenza sulla moratoria accreditizia accogliendo le richieste pervenute anche da parte italiana restiamo inoltre profondamente impegnati a promuovere in sede di vigilanza bancaria europea un'attenta valutazione del contesto macroeconomico in cui opererà il settore bancario per cui si apre nei prossimi mesi una delicata partita legata alle modalità di gestione dei futuri crediti deteriorati mi avvio a conclusione auguro a tutti voi un buon proseguimento di lavori nella consapevolezza che i numerosi tavoli di confronto previsti per le giornate di oggi ma anche di domani potranno produrre idee preziose anche per i decisori politici e per gli operatori commerciali grazie e buon lavoro grazie a tutti grazie a tutti